Claudio Borghi, responsabile economico della Lega, deputato regionale in Toscana. Claudio Borghi, è soddisfatto o no delle risposte dei convitati allo stesso tavolo nel quale ricordiamo Claudio Borghi qui ad Asimmetrie ha invitato tutti quanti a scoprirsi e dire sì siamo d'accordo nel fare un'alleanza di scopo oppure se si cominciano a fare distinguo vuol dire che non la pensate esattamente per l'uscita dell'euro ma è soltanto una pura manovra elettorale? No, non sono soddisfatto ovviamente perché io non riesco a togliermi l'idea che tante volte chi fa politica prende troppo sul serio l'immutabilità del ruolo. cioè una volta uno entra a fare politica diventa qualcosa da quadro di partito a parlamentare e istantaneamente le sue priorità cambiano cioè diventano altre, diventano dei giochi dove si deve poi dopo affermare di più la propria posizione all'interno della corrente piuttosto che riuscire a puntare alla vicepresidenza di qualcosa. Ecco sarà forse che invece io non ho niente, la mia vita l'ho fatta, sto vivendo una seconda vita e quindi sono mortalmente orientato alla soluzione dei problemi secondo me le cose dovrebbero essere molto più lineari invece ogni volta distingo, ogni volta puntualizzazioni, ogni volta sì ma e purtroppo con i sì ma non si va da nessuna parte. Una delle puntualizzazioni venuta dalla tavola qui ad Asimmetrie è stata proprio uno della sinistra italiana che ha detto però dice il 25% di flat tax è in Costituzione, fa parte della Costituzione cioè il fatto che debbano essere progressive le tasse lo diceva tra l'altro anche da Torre nelle sedie di tribuna. Claudio Borghi e la Lega per esempio, faccio un esempio, sarebbe disposto a rinunciare per adesso alla flat tax per avere un programma comune solo sull'uscita dall'euro per poi magari dopo rifare le squadre dopo qualche anno e vedere chi porta avanti la posizione maggioritaria in fatto di aliquote fiscali? Ma vede, non è tanto una questione di dire cosa uno rinuncia è evidente che quello che è parte del mio programma di governo è irrinunciabile dal mio punto di vista ma non è parte della liberazione cioè una cosa è il programma di governo una cosa è il programma di riconquista della democrazia dell'alleanza di scopo diciamo Esatto, come mi pare di aver detto nel momento stesso in cui io rimango in questo frame non posso far niente, non è che non posso farla la mia aliquota fiscale unica perché me la impedirebbero a un certo punto se non fossero d'accordo e non lo saranno a un certo punto ti dicono che ti fanno salire lo spread fino a che non ti adegui e così via Ecco, quindi io rivendico con gelosia la mia idea della flat tax e altre idee del punto economico ma sono demandate un secondo punto che non dovrò gestire con qualcuno di sinistra o con qualcuno di 5 stelle dovrò gestirlo se verrò votato in maggioranza in un nuovo mondo che sarà quello della libertà ma se prima io non riesco a liberarmi e quindi prescindendo poi dopo da quelli che sono le differenze non posso fare niente e poi dopo chi vincerà o chi avrà la responsabilità poi dopo di governare una volta riprese in mano le leve della politica riprese in mano le prerogative dello Stato allora farà quello che sarà il suo programma se vincerà la sinistra farà le super tasse progressive per la ridistribuzione se vincerò io farò flat tax perché dico che così facendo alla fine stiamo meglio tutti se vinceranno le 5 stelle farà un reddito di cittadinanza non lo so, qualsiasi cosa ma tutte queste cose non possono essere fatte all'interno di questo mondo un messaggio molto chiaro quindi prima liberiamoci dal tra virgolette l'invasore straniero cioè il piave e poi riprendiamo la nostra storianità e poi rifaremo le squadre con diverse casacche e vedremo chi avrà la maggioranza dopo sui programmi domando sull'attualità quanto hanno influito le deposizioni di Saddam Hussein di Gheddafi in questi attentati terroristici di ieri e in generale nell'ondata diciamo di terrorismo che c'è ma l'impressione mia è che normalmente quando si lascia un vuoto poi questo vuoto viene riempito e non necessariamente viene riempito da una persona che ci piace noi inteso come occidente siamo stati molto zelanti nell'intervenire quando a un certo punto all'America interessava il petrolio e quindi diciamo che l'attacco dell'Iraq contro il Kuwait all'epoca nel 90 fu l'occasione proprio che venne servita su un piatto d'argento insomma per gli americani per mettere le mani sulle riserve di petrolio più importanti del pianeta in ogni caso per intervenire in aree che erano strategiche in questo momento dato che l'America ha raggiunto la sua autosufficienza energetica in casa si disinteressa si disinteressa nessun altro si è interessato in ritirarsi da quelle terre e a secondare in modo pazzesco le famose primavere arabe o qualsiasi cosa fossero senza immaginare le conseguenze pensando semplicemente di trarne dei vantaggi economici segnatamente l'aggressione di Francia e Inghilterra alla Libia per esempio hanno poi dopo scatenato tutta una serie di disastri che stiamo pagando ancora adesso quindi in parte colpa nostra l'avversione al TTP della Lega al TTIP cioè al Trattato di Libero Scambio Atlantico lo sappiamo invece le richiedono interpretazione il fatto che la Germania sia diciamo il massimo o l'unico forse che si oppone in maniera così ferma al Trattato di Libero Scambio Atlantico è un mettere sul piatto sul piatto qualche cosa in cambio di qualcos'altro lo interpreta oppure è un puro è una pura avversione e basta parlo di Volkswagen ovviamente di tutto quello che è successo ma se io voglio immaginare perché non sono nella testa dei tedeschi che come ci insegna Alberto Bagnai non c'è una Germania una signora Germania fa qualcosa quindi dipende da diversi diversi interessi insomma che spesso e volentieri non sono coincidenti io posso immaginare che secondo me i tedeschi sanno o possono immaginare che l'euro così com'è non duri e io sono convinto che razionalmente se io fosse un tedesco sapendo di poter entrare nel TTIP con l'euro ci entrerei perché la mia moneta svalutata in quel momento rispetto al mio marco tedesco mi consentirebbe effettivamente di espandermi più del normale grazie a un mercato aperto nel momento stesso in cui invece io considero che per adesso c'è ma fra poco non ci sarà più a quel punto la mia moneta invece correttamente valutata mi fa diventare debole nei confronti degli Stati Uniti per cui io penso che loro stiano ragionando a lungo termine ultima domanda perché a un certo punto in Italia e in tanti altri paesi c'è stato questo processo di globalizzazione non è stato per nulla combattuto mai ostacolato neanche ci siamo sembra quasi che sia stato un buttarsi nelle braccia di questa globalizzazione come qualcosa di ineluttabile tanto che stessa domanda che ho fatto ai suoi colleghi oggi dire la parola dazio sembra dire una parolaccia io penso che da una parte c'è un non so come dire una tendenza italiana a quello che Bagnai chiama l'autorazzismo effettivamente che ci fa sembrare tutto quello che viene dall'estero molto bello e quindi pronti a recepire qualsiasi cosa giusta o sbagliata che sia dall'altra parte penso che una delle colpe del movimento no global è stata quella di vendere male le sue idee cioè io penso che quando c'era da fare una buona informazione su quello che comportava la globalizzazione o similare è stata fatta in maniera violenta in maniera respingente per quello che poteva essere invece un qualcosa che venisse recepito dal cittadino normale e quindi istintivamente senza neanche approfondire uno considerava no global uguale pazzo che scassa le vetrine e similare e quindi cattivo per cui credo che una delle grosse colpe di quel movimento è stato quello di non informare e col risultato poi dopo di metterci nelle grinfie invece di esattamente del risultato opposto a meno che però se vogliamo fare i complottisti la cosa non fosse voluta cioè che non si creava appositamente sfruttando la credulità di qualcuno un qualcosa di repellente in modo tale che poi dopo avrebbe spinto la gente ad accettarlo ultimissima qui di asimmetria è venuta gli altri politici hanno parlato invece di sedersi al tavolo della Lega proposto da Borghi e Salvini dicono invece che Bagnai potrebbe essere lui il mediatore che è il tavolo magari di asimmetrie quello che può portare magari a una sintesi seppur magari minima o minimale per arrivare a dei punti comuni per poi dopo riuscire a uscire da questo grande treno che sta andando contro la montagna come l'ha descritto lei durante il suo intervento potrebbe essere questa la soluzione per non far torto a nessuno? A me basta che ci si sieda al tavolo poi se il tavolo è a casa mia o a casa di un altro non fa differenza quindi sì potrebbe tranquillamente essere una questa se avete bisogno della casa la mia sede in Toscana è quella neutra perché è quella del portavoce dell'opposizione quindi non è una sede di partito ma è una sede di tutti quelli che si oppongono al PD è aperta e quindi abbiamo anche le attrezzature nel caso per poterlo fare altrimenti se anche non vi piacciono gli uffici del Consiglio regionale della Toscana che pure sono comodi perché sono al centro dell'Italia mi va benissimo da qualsiasi altra parte Pescara Capopassero fate Vobbis l'importante è che veramente si faccia qualcosa e si riesca ad arrivare a una sintesi comune grazie a tutti